La Mennescuola Basket vince al Palasport Estra contro la cestistica Odace Pescia con il punteggio di 85-72. Gli Amaranto con questo risultato si confermano in testa la classifica assieme al CMC Carrara, mentre scende al terzo posto San Vincenzo, sconfitto sul campo del Costone Siena. Gli Amaranto cominciano l'incontro cercando di imporre fin da subito un ritmo accelerato. Gramaccio e Ramirez guidano l'attacco Sba, mentre Giammetti riesce a limitare in difesa Cempini. Dopo il 23-15 del primo parziale alza ulteriormente il ritmo di gioco mettendo in difficoltà gli avversari. I contropiedi finalizzati da Ramirez scaldano il pubblico del Palasport Estra. Giammetti è una spina nel fianco della difesa ospite, producendo punti e rimbalzi dentro l'aria. Il divario tra le due squadre si dilata prima dell'intervallo lungo quando Ratkovic classe 2002 piazza due triple che lanciano la Sba al più 20, 52-32 con cui le squadre vanno a riposo. A rientro in campo però Rezzo non riesce a dare continuità al proprio gioco. Pescia ne approfitta con caparbietà e riduce lo strappo con un parziale di 16-6 firmato dalle triple di Mugnai e dalle penetrazioni di Spinelli. L'Amen riesce a tornare a più 13 al trentesimo ma l'ultimo quarto si apre con gli ospiti ancora in palla. Cempini segna i suoi canestri ed anche Ruggero si rende utile alla causa di coach Franchi. Sono ancora Gramaccia con un rimbalzo offensivo seguito da una triple. Ramirez a dare agli amaranto il guizzo giusto per chiudere la gara perché Bianchi mette a riferto punti preziosi in penetrazione che non permettono agli ospiti il definitivo rientro in partita. La gara si chiude così sull'85-72 per l'Amen che coglie altri due punti che sanciscono l'ingresso matematico nei play-off. Un risultato conquistato con grande abnegazione dallo staff tecnico e da tutta la squadra amaranto che d'agosto sta sudando per togliersi tante soddisfazioni in questo campionato. Particolare da sottolineare anche il numeroso pubblico che ha gremito il Palasporta Estra. Riportare i più sostenitori al palazzetto è uno degli obiettivi della società dopo l'amaro finale della scorsa stagione ed oggi questo traguardo è stato raggiunto. Adesso però gli amaranto dovranno rimanere concentrati sul finale di stagione regolare per cercare la migliore posizione possibile a partire dal derby di domenica prossima a Terra Nuova contro la squadra di coach Baggiani che davanti al proprio pubblico ha ottenuto successi contro tutte le migliori della classifica. Giuseppe Delia chiaramente ormai le sue doti non si decantano più perché è consuetudine praticamente vedere risultati così fatti anche dalla panchina con delle rotazioni particolari. Io veramente oggi ci tengo a fare complimenti alla squadra perché stiamo tenendo stretto questo primo posto in coabitazione con Carrara. Questo è stato frutto durante questi mesi di due cose. la prima è la partecipazione di tutti dagli allenamenti alle partite la partecipazione completa di tutti veramente dai più piccoli ai più grandi da chi gioca di più a chi gioca di meno. Oggi ecco c'è stata questa exploit di Oghi che ha fatto molto bene in tre minuti facendo due su tre da tre. Però veramente le partite precedenti, Girardoni, Sturli, lo stesso Stefano Liberto che non gioca tanto ma anche oggi è stato prezioso. Veramente questa è stata la nostra prima arma. La seconda arma è che abbiamo avuto e abbiamo la capacità di giocare tutte le partite con la stessa intensità, con la stessa energia come se fossero tutte delle finali. Questo non ci permette cali di tensione, cali di concentrazione. Cosa che invece ecco magari le squadre più blasonate come San Vincenzo e Prato stanno pagando è la classifica insomma non perdona. Ecco se purtroppo o per nostra fortuna vai a giocare delle partite contro l'ultima in classifica pensando di averla già vinta poi succede come successo ieri che prendi 26 punti. Noi finora abbiamo avuto questa capacità qui.